Sì, è stata una partita tosta contro una squadra, secondo me, con dei valori. L'anguese ha giocatori importantissimi per la categoria, ma siamo stati bravi, siamo partiti molto bene, abbiamo fatto 20 minuti, secondo me, un quarto d'ora molto bene, dove abbiamo trovato il gol. Poi abbiamo fatto un'ingenuità dietro, hanno trovato il pareggio, abbiamo avuto qualche difficoltà, poi dopo il pareggio loro si sono alzati e ci hanno messo un po' in difficoltà nel primo tempo. Ma nel secondo poi abbiamo riniziato a giocare da più un minuto, con grande personalità quello che abbiamo lasciato nei primi 20 minuti, l'abbiamo rifatto nel secondo tempo, senza, penso, rischiare quasi niente. Siamo riusciti a trovare il gol del 2-1 e penso che abbiamo fatto una partita nel secondo tempo e i ragazzi hanno veramente lottato su ogni palla. Ci siamo messi lì, ho visto una squadra che non voleva prendere il gol, che voleva portare a casa la vittoria, come domenica scorsa in Coppa. Sono segnali, sono segnali, secondo me, importanti e sono la base per andare avanti. Quindi bisogna continuare su questa strada, andare avanti sul sacrificio, continuare ad avere questa mentalità.